Non è mia questa vita che si evolve al ritmo di un respiro regolare che non è mio, allietata da giornate serele che non sono mie. Non c'è nulla a questo mondo che sia tu, Sandra, renditene conto. È tutto un dono su cui il donatore può intervenire. Quando è come vuole, abbi cura del regalo che ti ha fatto. Rendilo più bello, bello e pieno per quando sarà l'ora. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.